Ciao e benvenuti su MyFootballJersey! Oggi vedremo insieme la maglia del Manchester United per la stagione 22-23 nella versione FUN! Il kit casalingo dell'Adidas Manchester United 2022-2023 combina un colore principale rosso piuttosto scuro con un logo Adidas bianco e le tre strisce Adidas nere. Ciò che rende speciale il kit è il colletto Polo, il colletto bianco ha un design triangolare ispirato al 1994. La rivisa casalinga del Manchester United 2022-2023 presenta uno scudo su cui è posizionato il logo del Manchester United. Lo scudo ha una forma pentagonale con un tono di rosso leggermente più scuro rispetto all'arresto della maglia ed è delineato da un bordo sottile per separarne la forma. L'ultima volta che lo stema del Manchester United ha avuto uno scudo intorno è stato nel 2019, ma questa volta la forma e il colore sono diversi. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa prende 4 stelle. All'inizio non mi piaceva tanto il colletto, poi mi ha portato, visto che ho una certa età, alla memoria, gli anni 90 mi ha riportato la memoria a Cantona e devo dire che la maglia ha acquistato un fascino aggiuntivo. Peraltro è fatta veramente molto bene, incredibile, si trovi al costo di quasi 13 euro più spese di spedizione. Peraltro la spedizione è stata velocissima, è arrivata in meno di 4 settimane, 23-24 giorni, adesso non ricordo esattamente. Trovate in descrizione tutti i riferimenti per acquistare la maglia. Ora vi prego di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN, quella un po' più confortevole dedicata ai tifosi.